Come una classe diventa una casa. Questa è una classe che ospitava una terza elementare, adesso ci sono i materassi, non c'è riscaldamento. Questa è la situazione di 500 persone, lì c'è ancora la tavola dell'insegnante, sopra c'è del pane, dell'acqua, il caffè, un po' di olio, ecco il pane. E la situazione nella quale vivono 500 persone in questa scuola che è diventato un centro di accoglienza per chi non ha più una casa dopo il terremoto.